Il rilancio turistico dei borghi è l'obiettivo delle due nuove cooperative di comunità che sono nate nel comune di Castiglione d'Orcia grazie al bando della regione toscana che a dicembre ha finanziato 25 progetti di altrettante realtà con 1.200.000 euro. Le due cooperative, una Campiglia d'Orcia e una Vivo d'Orcia, creeranno così occasioni di lavoro per la popolazione e rinvestiranno gli utili in servizi per i residenti, soprattutto anziani. Qui siamo a Vivo, c'è una cosa fantastica che non avevo mai visto ed è veramente una meraviglia, c'è la sorgente da cui parte tutto l'acquedotto del Fiora. Intorno a questa ci sono tutta una serie di percorsi, anch'essi utili per il turismo, per il trekking. Intorno a questo intenderebbero sviluppare poi l'attività della cooperativa di comunità anche attraverso poi una sede, un punto d'accoglienza dei visitatori, dei cittadini che intendono fare queste passeggiate in questi luoghi meravigliosi. Sotto anche lì è un'esperienza dove più nel centro della frazione si intende appunto fare un albergo diffuso. A Vivo d'Orcia gli abitanti hanno deciso di ripartire dall'acqua del fiume per valorizzare un percorso turistico che parte dalla sorgente del fiume vivo e si snoda nei boschi dove c'è anche un antico eremo risalente all'anno 1000. Il parco c'è già ma va messo a sistema e poi è promosso. La spesa prevista è 71.000 euro, 50.000 li metterà la regione. Partiamo da qui, da questa nostra sorgente e attraverso lo sfruttamento di questo parco meraviglioso che si snoda attorno alla sorgente vogliamo provare a riportare il turismo in questo posto. Vorremmo anche che ci fosse proprio una ricaduta in servizi, ci auguriamo che la cooperativa prenda forza pian piano e quindi possa portare dei servizi importanti per una comunità che attualmente inizia a essere in sofferenza per questo. Nella frazione di Campiglia d'Orce invece la cooperativa di comunità punta a creare un albergo diffuso utilizzando le case sfitte nel paese, offrendo anche servizi per gli anziani. Servono 120.000 euro, 70.000 li raccoglierà la cooperativa con 50.000 contribuirà alla regione. Noi abbiamo una popolazione sempre più anziana, un paese a rischio di spopolamento, abbiamo tante case disabitate nel centro storico, l'idea principale è mettere in rete queste case per creare una sorta di albergo diffuso all'interno del paese e al contempo offrire alcuni servizi alla cittadinanza. Servizi di assistenza leggera, chiaramente quindi non interventi sociosanitari ma interventi del tipo compagnia, prendere le legna, fare ricette mediche, accompagnare e fare la spesa, servizi del genere. Nel piccolo borgo di Campiglia d'Orce alla cooperativa, coordinata da un gruppo di giovani attivi nel volontariato, servirà anche ad evitare lo spopolamento del paese. La signora è arrivata qui da 10 anni, vorrebbe rimanere in questo bellissimo paese dove ha trovato una famiglia? Certo, io vengo dal centro della Sardegna, dall'interno, abbiamo comprato una casina qua e ora a me mi piace questa comunità, mi piace il poco di contributo che posso dare, io ho partecipato anche l'altra sera alla riunione del sindaco e non c'era solo io un'altra di donne, però a me mi piace venire perché altrimenti le comunità muoiono, non c'è poco, se nessuno fa niente muoiono ancora di più.